Presentato dall'Asle di Teramo il report dell'indagine condotta in collaborazione con l'Università d'Annunzio Chieti Pescara sul benessere dei cittadini in provincia, questo anche la luce dell'impatto che l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha avuto sull'economia, i servizi e gli equilibri sociali. È stato voluto perché l'Asle si promuove la salute ma deve fare anche altre attività per vedere lo stato di benessere psicologico, fisico e anche sociale delle persone, quindi abbiamo ritrovato opportuno fare questa indagine su tutti i cittadini terramani di come percepissero il benessere vita in senso lato e soprattutto in un periodo in cui si usciva dalla pandemia. Scopo dell'iniziativa alla quale hanno partecipato oltre 1100 persone è stato quello di ottenere un quadro dello stato di benessere dei cittadini terramani, individuando i punti di forza e le aree di miglioramento specie per quanto concerne i servizi sanitari erogati dalla Asle. Emerge che a differenza di quello che noi possiamo pensare il reddito, la situazione economica non viene percepito al primo posto. I due principali beni primari sono le relazioni sociali e in modo particolare il ruolo e il valore della famiglia e la salute. Questi due risultati sono da un lato ci danno una conferma di quello che un po' la letteratura degli anni ha individuato, cioè le relazioni sociali, quindi i beni relazionali sono un principale driver dello sviluppo e della felicità delle persone. Ma è interessante valutare il preso che viene dato alla salute. Per la prima volta la salute emerge come bene fondamentale rispetto al passato. Il vantaggio è che questo studio comunque potrà servire a tutti gli enti. Noi ce lo auguriamo. Essendo un progetto iniziale ringraziamo la AS per aver creduto in questo progetto. Noi come spin-off universitario UDA Analytics promuoviamo queste ricerche che intercettano l'esigenza di cogliere le scienze economiche con le scienze psicologiche. Noi vogliamo offrire una sorta di stimolare la sensibilizzazione degli istituti politici, in modo particolare le istituzioni che hanno il compito più che mai oggi di sostenere una visione della crescita economica che sappia però coniugare gli aspetti della dignità della persona. Quindi la sostenibilità non solo ambientale ma soprattutto sociale.